Scadrà il prossimo 30 aprile la possibilità di fare domanda per ottenere il reddito di emergenza. La CGL invita tutti i beneficiari a non perdere tempo visto che la proroga che comunque si chiede non è un dato di fatto al momento. Le telecamere di Rete 8 hanno fatto visita al patronato della CGL per capire meglio la situazione. Come si sa il decreto sostegni ha rinnovato il reddito di emergenza che è un'indenità erogata per tre mesi destinata a chi ha avuto un reddito particolarmente basso nel febbraio 2021 esteso a chi ha finito di percepire la Naspi o l'indenità disoccupazione. Questa è la principale novità che spiega Dario Angelucci, il direttore del patronato Inca CGL. I nostri uffici sono pieni di persone che ci chiedono di avanzare la domanda di accesso al REM. Questo è segno di un grave disagio che sta nella nostra società. Le domande si possono fare dal 7 di aprile fino al 30. Noi ospichiamo che ci sia una proroga però siccome non esiste un atto dispositivo in questo senso invitiamo le persone a regarsi nel nostro ufficio ad accelerare la pratica. perché la premessa necessaria per accedere al REM è l'acquisizione dell'Isee che comunque presuppone un passaggio presso il CAF e dei tempi tecnici per definirlo. Rispetto al passato c'è una novità importante nel senso che in questa fase possono accedere al REM anche coloro che sono disoccupati e la cui indennità di disoccupazione quindi la Naspio e la Discolla è scaduta dal 1 luglio 20 al 28 febbraio 2021 e che quindi se dispongono di un Isee sotto a 30 mila euro possono accedere a questo beneficio nella misura fissa di 400 euro. Poi c'è un secondo caso che è quello che riguarda i nuclei meno abbienti e se hanno un Isee sotto a 15 mila euro ed altri requisiti di tipo reddituale possono accedere alla misura del REM in un range che va da 400 agli 840 euro per tre mensilità quindi copre marzo, aprile e maggio. Strumento essenziale per sostenere persone in difficoltà anche a causa della pandemia. Le persone potenzialmente interessate sono migliaia. Solo la CGL nel 2020 ha elaborato 5.102 domande di persone che hanno visto peggiorare la propria situazione economica a causa Covid. La burocrazia e i tempi stretti non aiutano per questo è necessario che le persone facciano i passaggi in tempi rapidi per non restare fuori dal discorso proroga a parte che ora non c'è.